Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 31 agosto 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Sull'amore, giù l'amicizia. L'amore oggi vi delude o quantomeno non vi accontenta, con il sole e venere alti nel cielo inquadratura forse state vagheggiando qualcuno che non vi vede nemmeno. In coppia poi puntate troppo in alto, bisogna saper perdere, dice qualcuno, ma forse basterebbe solo aspettare. Le grandi ambizioni non si appagano in una manciata di giorni, per sovrapporsi cuore hanno bisogno di tempo per conoscersi e amalgamarsi. È urano opposto a stuzzicarvi, reclamando il tutto e subito, ma non è detto che l'alchimia riesca così in fretta e soprattutto che riesca bene. Meglio puntare allora su una semplice e tranquilla amicizia, Mercurio in se stile ve ne proporrà parecchie, in città come in vacanza conoscerete persone intelligenti e tranquille, in grado di sopportare anche i vostri sbalzi d'umore e gli eccessi del vostro carattere tempestoso. In capacità di esprimere i propri sentimenti, le proprie idee, di esporre le proprie ragioni. C'è un vuoto intorno alla tua persona che determina un profondo scoraggiamento. Poca armonia e poca volontà in tutto quello che si fa, scarsa riflessione e impulsività. Notizie da una persona lontana. Sarai curioso. Leggi un buon libro. Saranno gli altri a darti i suggerimenti giusti e a risolverti i problemi. Oggi il cielo si presenta luminoso e molti pianeti sono in buon aspetto, anche se non sarà apoteosi riceverete tuttavia delle buone soddisfazioni e soprattutto vi sentirete leggeri. Avrete bisogno di distrarvi e di staccare un tantino la spina, regalatevi una serata di relax possibilmente guardando un buon film oppure ascoltando buona musica. Inizialmente penasavate non fosse una buona idea avvicinarvi a quella persona ma poi. Avete capito che era il momento giusto per osare. Coltivate questa conoscenza. Ogni volta che ripensate ai B e i momenti trascorsi insieme provate malincomia? Allora basta una telefonata per capire cosa provate o no? Non è salvando le apparenze che riuscirete a impressionare chi vi sta a cuore, piuttosto prendete di faccia la situazione e spiegatevi bene e nel miglior modo possibile. Gli astri ti consigliano di fare della ginnastica per alleggerirti e per scaricare nervosismi. Avrai la possibilità di ottenere un avanzamento professionale se sei un libero professionista, riuscirai a recuperare un credito. Non litigate oggi con nessuno, la cosa potrebbe prendere una piega di quelle che lasciano il segno. Problemi digestivi. Evita alcolici, cibi ricchi di grassi e di zuccheri. Cerca di iniziare una sana dieta. Il cielo è gratificato da un ottimo aspetto di Nettuno che vi sorride dal segno dei pesci, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 22 di novembre. Oggi una certa vostra disorganizzazione dimostrata di recente è completamente allontanata e voi siete sempre efficienti e presenti a voi stessi. Giornata magica questo mercoledì con un super trigono d'aria messo in campo dalla Luna con Giove e Marte in gemelli, a loro volta intrigono a Plutone in acquario. Immaginatevi un aquilone azzurro o lilla in volo nel vostro cielo, pronto a recapitarvi i messaggi di una persona molto speciale. Fate bene ad affidarvi al suo volo, perché con Mercurio imbronciato in dodicesima casa faticate a trovare le parole e soprattutto il coraggio di pronunciarle. Sciocchini, vi sbagliate di grosso, il sole abbracciato al vostro astro guida venere parla fin troppo chiaro, la persona che dichiarate amica è stracotta di voi. Anche quest'anno il vostro charme non verrà a mancare. Amore ed eros. Dall'amicizia all'amore il passo è breve e avete tutta l'intenzione di compierlo prima che finisca il tour, così interessante ma tanto, troppo impegnativo. Sempre in giro a scarpinare tra musei, castelli, abbazie avete poco tempo da trascorrere in compagnia scambiando opinioni o chiacchierando intimamente nella pausa caffè o dopo cena prima di andarsene ciascuno nella propria camera. Un vero peccato, questo, sarebbe così bello condividere la stessa. E allora provatevi, per osare basta una battuta, pronunciata con labbra sensuali e occhio languido. A buon intenditor poche parole. Per le coppie già collaudate qualche preoccupazione per i figli lontani in vacanza da soli, ma non ricordate i vostri primi esperimenti turistici in gruppo con zaino e sacco a pelo sulle spalle facendo l'autostop. Che tenerezza e nostalgia ripensando a quei giorni e allora lasciate che i vostri rampolli vivano le vostre stesse emozioni così entusiasmanti e irripetibili. Crescendo anche loro punteranno su begli alberghi, la vacanza on the road stancherà anche loro, come a suo tempo ha stancato voi. Lavoro e denaro Lavoro appunto morto, se siete ancora in azienda vi sentite impaludati, il collega è partito senza darvi istruzioni e così non sapete da che parte cominciare per espletare le sue incombenze. Bloccati anche con gli studi, con la scusa che i prossimi appelli saranno a settembre decidete di prendervi una pausa dai libri, finché le cose vi ballano davanti agli occhi senza entrarvi in mente restarci sopra è solo tempo perso. Usatelo piuttosto per impratichirvi con le lingue viaggiando, compilare e inviare curriculum o stringere nuove amicizie che chissà, a suo tempo, potranno fornirvi entrature interessanti. Mai lasciare nulla di intentato, se le vie del Signore sono infinite, quelle della fortuna ancora di più. Felice chi è in vacanza tra arte, natura e tanto, tanto sport, importantissima anche la vita sociale tra feste di piazza, spettacoli e balli conoscete facce simpatiche con le quali entrate subito in confidenza. Il resto del capitolo scrivetelo voi. Benessere. Un filo di tosse raffreddore non deve subito farvi pensare a una polmonite, viaggiando con i finestrini aperti o tenendo l'aria condizionata a manetta avete semplicemente preso un colpo d'aria. La salute si giudica dall'aspetto e il vostro è uno splendore, bella pelle, bi e i capelli, fisico tonico e tanta disinvoltura e velocità nel movimento. Il ritratto del malatino decisamente non corrisponde al vostro. Per lei, agosto finisce con un desiderio inesaudito, ma per realizzarlo avete davanti tutto agosto. La fretta, dice il proverbio, fa i gattini cecchi. Per lui, i grandi progetti reclamano tempo e cura dei particolari, in vacanza cominciate a visualizzarli, come la scena di un film e in tutta tranquillità. Forse non lo sapete, ma li avete già messi in moto. E allora rilassatevi. Colore delle emozioni, verde bottiglia. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.